Sosa risponde Canigia. Partita clou della giornata. Blu imbattuto da due anni. Ascoli. Vittoria interna dell'Atalanta sulla Fiorentina. Il gol è di Canigia. L'Atalanta elimina il Genoa grazie a Canigia. I Rossoblu pensano alla Coppa. L'Atalanta virtualmente perde ogni speranza. 3 a 1 il finale per i Granata che occupano la terza piazza in classifica.